Erano molto calde, molto accoglienti. Poi c'era la stufa, erano belle. Io le trovavo belle. Quando non c'era la valanga, perché veniva giù la valanga, allora andavo in bicicletta fino a Polen, e da Polen andavo su. Invece quando c'era neve, la valanga attraversavo il ponte di Guart e andavo su, e si gelavano addirittura i capelli. Noi eravamo abituati. Noi eravamo abituati a sentire freddo, a accendere la stufa, e non avevo gran difficoltà. Tanto che i bambini portavano poi loro della legna. Bambini. Tre, quattro pezzi di legna per uno. Per fortuna c'era Pier, c'era Nolore, perché sennò mi sarebbe mancata tanto la scuola. Tanto. Perché a me piaceva fare la scuola. Grazie. Grazie.